L'amministrazione Melucci e il sindaco devono smetterla di prendere per il culo i tarantini parlando di rilancio della città vecchia, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale in una sola parola. Smettiamola di prendere per il culo i tarantini. Ve lo dimostro subito. Siamo nella città vecchia di Taranto, siamo in via Cava e mi trovo dinanzi agli ipogei. Vi farò vedere, li vedete voi stessi, tre ipogei chiusi da anni. Ipogeo La Fornace, via Cava 76. Chiuso! Chiuso! Queste sono le puttanate che racconta Rinaldo Melucci. La valorizzazione del patrimonio storico. Chiuso! Da anni! Andiamo avanti! Un altro ipogeo qua. Chiuso! Procediamo! È una cosa pazzesca, la dobbiamo smettere di prendere per i fondelli i tarantini. Queste sarebbero delle risorse, sono delle risorse eccezionali in ogni parte d'Italia, se c'è una pietra, anche insignificante, la sanno valorizzare. Altro ipogeo. Il ipogeo, il frantuglio. Chiuso! Chiuso! Qui addirittura ha fatto la ruggine il lucchetto. Chiuso! La muffa si è fatta per dimostrarvi da quanto tempo non viene aperto. Chiuso! Andiamo avanti! Altro ipogeo. Sempre siamo a distanza di pochi metri l'uno dall'altro. Ipogeo passo di Ronda, comune di Taranto. Chiuso! Chiuso! Anche qui iniziano a crearsi tracce di ruggine. E potremmo andare così avanti all'infinito. Ma questa è promozione del territorio? Questo è marketing territoriale? Sindaco Melucci, ma tu hai mai girato, non dico il mondo, ma l'Italia? Ci sono cittadine in cui, ripeto, per ogni espressione storica, artistica, c'è una insegna, c'è una didascalia che ti spiega di cosa si tratta e l'area, ovviamente, l'area di interesse culturale, archeologico, storico, chiamatelo come volete, è regolarmente visitabile. Visitabile! C'è l'orario per le visite, ci sono le guide e quant'altro. Qui invece abbiamo l'oro murato, abbandonato, chiuso. Che schifo, credetemi, non ho altre parole. Vedere queste tracce di ruggine, che ti fa capire, vi ho fatto vedere prima il lucchetto, vi fa capire l'insensibilità di questa amministrazione comunale. Non solo l'insensibilità, ma anche la falsità e l'ipocrisia si sciacquano la bocca parlando di valorizzazione, di rinascita, di riscoperta dei tesori della città vecchia. A dove è, sindaco? Dove? Chiuso! Chiuso! Ecco perché te ne devi andare a casa, ma quanto prima, perché tu stai facendo politicamente e amministrativamente solo danni alla città, neghi la cultura ai tarantini. Tu e i tuoi assessori, gli assessori da te scelti, quelli che dicono o dicevano di tenerci alla cultura, si è proprio visto. Vergoglia!